Musica Ancora ben ritrovati con il nostro TG in apertura incidente mortale a Palermo. Un uomo di 38 anni, Samuele Fuschi, ha perso la vita in Viale Regione Siciliana nel tratto compreso tra il ponte di Bonagia e l'ex rotonda Oreto, dove si trova una profonda buca sull'asfalto. Stava viaggiando sul suo scooter in direzione Catania quando è improvvisamente uscito di strada ed è finito violentamente contro il guardareile e poi sull'asfalto. L'impatto si sarebbe rivelato fatale. Quando è stato lanciato l'allarme sono arrivati i sanitari del 118, hanno soltanto potuto constatare il decesso dell'uomo che lascia moglie e quattro figli. La connessione tra la voragine e l'incidente è stata confermata dalla dichiarazione anche del sindaco della città metropolitana di Palermo, Roberto Lagalla, il quale ha affermato che stando ai primi rilievi effettuati dalla municipale, appare evidente che si sia trattato di un cedimento dell'asfalto, avvenuto contestualmente o pochi momenti prima del verificarsi dell'incidente che ha provocato la morte dell'uomo. In serata tuttavia l'agenzia ANSA ha diffuso, chiaramente parliamo di ieri, la notizia che nel verbale c'è scritto che la voragine si è aperta dopo l'arrivo della municipale. C'era un abballamento della strada ed era stato posizionato anche un birillo, come si leggerebbe nel verbale del sopralluogo degli agenti della Polizia Municipale. In base alla posizione del casco ritrovato sul luogo dell'incidente è probabile che la vittima non lo indossasse, e desuniamo che non si possa neanche essere accidentalmente slacciato. Dice così intanto il comandante proprio della municipale di Palermo, Angelo Coluccello, che appare chiaramente scosso per questa vicenda, per questa ennesima tragedia. Anche in relazione alla prima dinamica che farebbe emergere ancora una volta una possibile compartecipazione in questo evento delle critiche condizioni delle strade cittadine di Palermo. Quattro bambini, quattro bambini. A Casania non si riscosa più, mi abita ancora una ragazzina, si molti, e lascia quattro figli, non ha bambini ancora dallo stasso. Noi andiamo a sussidio, qualche cosa, però non è che ci poteva arrivare. Andiamo a qualche piccolo laboretto così, magari a me che mi vende tante ragioni. Come si fa? Con un piccolo sussidio, paga a campare con qualche figlio, una casa. Io poi prendo e ci sono una famiglia. Torneremo a far luce su questa vicenda. C'è un filo rosso che lega nella città di Marsala due distinte operazioni, ma fra loro molto simili. Una è quella denominata Virgilio, della quale abbiamo anche parlato nelle precedenti edizioni di questo telegiornale, e l'altra è quella denominata Fox. Entrambe raccontano però di una realtà triste, quella piegata dall'uso smodato della droga da parte di giovani e non. Intanto sull'asse Marsala-Catania condannati i primi quattro imputati. L'operazione antidroga dei carabinieri di Marsala, denominata Fox, arriva al suo primo vaglio giudiziario. Il giudice delle udienze preliminari, Riccardo Alcamo, è infatti condannato con rito abbreviato quattro degli undici imputati per i quali la procura ha chiesto il rinvio a giudizio. L'indagine ha fatto luce su un traffico di cocaina tra Catania e Marsala, secondo l'accusa ogni mese a Capobeo. Sarebbero arrivati circa due chili di cocaina che avrebbero inondato, così spiegavano gli investigatori, la città favorendo lucrosissime entrate illecite per i trafficanti. E proprio ieri a Marsala una nuova operazione antidroga ha portato all'arresto di quattro persone e al sequestro di una rivendita di tabacchi nel quartiere di Amabilina. Ma torniamo all'operazione Fox. La pena più dura è stata inflitta al pregiudicato marsalese, Vincenzo Fabio Licari, mentre due anni, più 10.000 euro di multa, sono stati inflitti al catanese, Agatino Lorenzo Abbate. Gli altri due condannati sono Riccardo Giacalone, un anno e 8 mesi, più 4.000 euro di multa, e Carlo Frazzitta, un anno e mezzo e 9.000 euro di multa, entrambi di Marsala, per Licari e Abbate. Il procuratore Fernando Asaro aveva chiesto la condanna a 10 anni di carcere, mentre 4 anni erano stati invocati, per Giacalone, 2 anni e 8 mesi, per Frazzitta. Abbate e Frazzitta sono stati condannati in continuazione con una precedente sentenza. A difendere 4 sono stati gli avvocati Luigi Pipitone, Vincenzo Forti e Francesca Frosteri. Altri 7 imputati sono stati rinviati a giudizio davanti il tribunale di Marsala. Sono Pietro Marino, Gaspar e Maurizio Giannone, Vincenzo Andrea Giannone, Giuseppe Lamantia, Francesco Vinci, Alberto Giacalone, Loris Carmelo Abbate. Tranne quest'ultimo, che di Catania, sono tutti marsalesi. Il processo al loro carico inizierà il prossimo 26 giugno. Nell'ambito della stessa indagine, il primo giugno del 2023 era scattato il sequestro preventivo di beni mobili e immobili riconducibili a Vincenzo Fabio Licari. Tre beni ai quali sono stati posti sigilli anche il bar Pieruccio, accanto l'ospedale di Marsala, Paolo Borsellino. Per gli investigatori il bar e gli altri beni sequestrati sarebbero il provento del traffico di droga o comunque hanno un valore sproporzionato rispetto all'arredito dichiarato dall'Icari. Il sequestro venne operato dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP su richiesta della procura. Quest'ultimo è infatti disoccupato secondo l'accusa, valendosi di prestanome o parenti stretti per eludere le indagini patrimoniali. Avrebbe avuto la diretta disponibilità insieme alla moglie di due immobili, una casa su tre livelli, il chiosco adibito a bar, peraltro costruiti abusivamente e vari beni mobili, due auto, due ciclomotori di valore non giustificabile rispetto ai redditi dichiarati. Nell'operazione Fox erano già state sottoposte a sequestro preventivo due società di vendita e noleggio veicoli con sede a Marsala, con cui gli indagati avrebbero organizzato in più occasioni il trasporto della droga da Catania a Marsala stessa, avvalendosi proprio di insospettabili auto a noleggio. La fuga dopo maxifurto in abitazione è durata poco per due palermitani pluri pregiudicati e arrestati dalla polizia stradale di Alcamo, bloccati in contrada a Canalotto a bordo di un autocarro. Entrambi non avevano documenti e chi era alla guida non possedeva neppure la patente. Il loro atteggiamento nervoso ha insospettito gli agenti che hanno così deciso di effettuare una perquisizione. Sul mezzo si trovavano lavatrici, televisori a schermo piatto posizionati in modo da nascondere ulteriori oggetti. I poliziotti hanno proseguito il controllo trovando poi flex, un trapano, martelletti, un montacarichi, cavi elettrici e quant'altro. Ma non finisce qui, sull'autocarro e due custodivano anche tutti gli arnesi per lo scasso, ovvero cacciaviti, un piede di porco, dei coltelli, alcune tenaglie, probabilmente utilizzati per mettere a segno il colpo nell'appartamento poco prima preso di mira. Sono quindi partite le indagini per risalire al proprietario dell'abitazione svaliggiata, da cui in effetti erano stati portati via elettrodomestici e vario materiale edile. Per i due è così scattato l'arresto per furto aggravato e ricettazione, poi convalidato. Sono entrambi finiti ai domiciliari con il braccialetto elettronico. La re furtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Stamattina abbiamo seguito al porticciolo di Santerasmo di Palermo un'attività molto interessante di ossigenazione attraverso la pulizia dei fondali, l'utenza a cui era rivolta, gli studenti della TED Formazione e l'Istituto Piazza di Palermo con l'associazione presente della Santerasmo Nautilus. È uno scopo didattico, ma uno scopo anche per evitare quello che è l'abbandono o scolastico. Noi eravamo lì, facciamo il punto. Un servizio fotografico del fondale del porticciolo di Santerasmo e contemporaneamente saranno raccolti i rifiuti inquinanti che si trovano. L'apporto è della guardia di finanza che sono dei professionisti e noi sono tutti soci. Coinvolgiamo i ragazzi, il segnale affinché tutti ci ricominciamo che possiamo fare qualcosa non solo per non inquinare, ma addirittura per ossigenare, per far respirare i nostri mari. Siamo stati chiamati per un progetto che era dell'associazione Santerasmo, un progetto che comunque si sposa bene con quelle che sono le nostre mission, le nostre idee sulla formazione professionale. Abbiamo avuto il privilegio qualche mese fa di conoscere questa realtà di formazione professionale. Va molto sul concreto e pertanto non avendo molto tempo da perdere, quando ho intercettato queste persone che mi sono state a questa opportunità, nel giro di 15 giorni abbiamo firmato un protocollo di cooperazione. Siamo firmato un protocollo di cooperazione, ma non solo. Negli successivi 15 giorni abbiamo fatto un protocollo addirittura con il piazza per contenere il più possibile la dispersione scolastica, riorientarli a una nuova attività e dargli l'opportunità di affacciarsi un mondo del lavoro. Siamo molto attivi a livello ambientale, abbiamo questo progetto, abbiamo fatto diverse attività, tra le quali abbiamo inserito proprio questa per far rendere conto ai nostri alunni di quello che sta succedendo al mare. La ragazza è una della mia classe, tra l'altro è una tutor per un suo compagno diversamente abile, e quindi abbiamo un po' unito le due situazioni. Il progetto l'abbiamo iniziato ad ottobre, già siamo in fase finale, ma abbiamo fatto diverse attività proprio legate all'ambiente. Il protocollo che abbiamo firmato è un protocollo che mira a formare, a dare un'opportunità ai nostri allievi in ambito del diporto. Formeremo insieme dei professionisti, dei cuochi, dei cuochi da inserire sulle imbarcazioni, sia charter che imbarcazioni commerciali, portare gli allievi a capire se stare in barca, cucinare in barca, lavorare in barca può rientrare in quelle che sono le loro abitudini normali. Sappiamo che in una barca le problematiche sono di natura diverse. Siamo qua proprio per aiutare tutto questo e per fare magari del nostro. La scuola ci aiuta proprio anche a crescere da questo punto di vista, anche a livello di ambiente, di rispettare l'ambiente, infatti ci porta a fare pure queste esperienze. Non per forse devono fare sempre solo teoria asettica, potrebbero magari trovare sfogo nel guardare il mare, nel vivere il mare, nel trovare un'opportunità di lavoro sul mare. La stiamo facendo con grande convinzione perché fra l'Associazione Santerasmo e la TED abbiamo già circa 40-50 posti di lavoro pronti. Se avessimo già le risorse umane e professionali ovviamente formati e perciò ci stiamo dando a fare, abbiamo trovato una sensibilità scioccante. Abbiamo fatto poi una ricerca sugli obiettivi per salvaguardare l'ambiente. Abbiamo dato un progetto, uso e riciclo l'acqua, tirato fuori delle ricette sul riciclo dell'acqua, delle lasagne verdi con gli spinaci, cotte nell'acqua degli spinaci oppure dei dolci creati fuori su con l'acqua fabba che è l'acqua che viene dalla cottura dei ceci. Delle opportunità che devo dire sono state anche sposate dall'Istituto Alberghiero, dal preside Vito Pecoraro stiamo cercando di fare insieme un lavoro anche per recuperare quello che è purtroppo un problema grosso in Sicilia che è quello della dispersione scolastica. Più che lavorando per loro abbiamo la fortuna di sensibilizzare e dare il nostro apporto a questi ragazzi un po' per farci perdonare ciò che stiamo lasciando e soprattutto per dare loro un momento di speranza, di convinzione, di andare avanti. Non abbiamo fatto danni noi grandi? Noi ne abbiamo fatto danni ma loro non sono quelli che devono pagare, facciamo in modo che loro si convincono che c'è ancora opportunità e grande risorse perché il mare comunque è una risorsa. L'opportunità di lavoro la vedi all'orizzonte con questo corso? Sì, sì sì assolutamente. Un futuro legato a questo che ti stanno facendo studiare? Assolutamente sì. A casa cosa dicono di questo corso? Sono molto felice anche perché sono venuti a conoscenza di cose che praticamente erano inesistenti perché comunque se ne parla ma non abbastanza, ci vorrebbe più informazione per tutti quanti, non solo per gli alunni. Le poche opportunità di lavoro sicuramente incidono. Un non volere più dai ragazzi comunicare fra di loro, quindi stare insieme, ma chiusi in una stanza davanti a un personal computer, generalmente questi ragazzi perdono quello che è l'amore allo studio, quello che è la socializzazione. Abbiamo parlato dell'acqua, siamo andati a visitare delle fontane di Palermo e adesso noi andiamo a riempire le bottiglie alla fontana, non beviamo più acqua imbottigliata. Questo è uno degli esempi. Sono convinto e tanto ringrazio voi per la vostra partecipazione perché questo è uno dei primi passaggi che può portare ad alto. Ho fatto tanti anni alla Guardia di Finanza di Mare, mi ha strutturato, mi ha formato e il mare comunque poi ci mette la pennellata artistica. Ciò che lei ha ricevuto come bagaglio di formazione e cultura del lavoro della Guardia di Finanza lo sta trasmettendo? Cerco ovviamente nelle mie modeste possibilità di trasferire quelle grandi esperienze che la Guardia di Finanza mi ha messo in condizione di fare e parlo di navigazione, di certezza di ciò che si deve fare, di comprensione per quando ci sono momenti difficili, regole, discipline, diciamo di quel cameratismo, di quella possibilità di stare tutti insieme ma soprattutto la regola della legalità ma non in senso così proprio, della quotidianità, il rispetto del mare, il rispetto degli uomini, sempre con fermezza, con determinazione ma sempre con rispetto alla persona. E ci fermiamo adesso per la sosta pubblicitaria. E a quasi 32 anni dalla strage di Capaci ritorna il corteo popolare per ricordare le vittime. La manifestazione organizzata da associazioni, comitati studenteschi e sindacati partirà il 23 maggio prossimo alle 15 dalla facoltà di giurisprudenza e si snoderà per il centro della città fino a raggiungere poi il simbolico albero Falcone. Quasi 32 anni dalla strage di Capaci in occasione dell'anniversario, il 23 maggio prossimo, è stato organizzato un corteo popolare che sfilerà per le strade di Palermo fino ad arrivare all'albero Falcone per ricordare il sacrificio del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti della scorta. L'iniziativa è di un gruppo di associazioni, comitati studenteschi e sindacati. Il corteo partirà alle ore 15 della facoltà di giurisprudenza al grido di resistiamo e raggiungerà via Notarbartolo dove abitava il giudice. Il corteo popolare per un'antimafia sociale intersezionale vuole rivendicare, così afferma il coordinamento sociale antimafia, la necessità di inserire la lotta alla mafia in un contesto più ampio di rotte sociali. Da un lato la ricerca e la pretesa di quelle verità ancora mancanti sulla strage per rispondere a una giustizia attesa da decenni, dall'altro invece, l'analisi della condizione politica, sociale, culturale, economica, ma anche internazionale in cui vivono la Sicilia e il paese tutto. Affirmare la nota l'associazione Our Voice, CGL Palermo, collettivo Rutelli, sindacato, parlatore, Chioara, sindacato, regina Margherita, il collettivo Vittorio Emanuele II, Sunia, voci nel silenzio, Lampi di Palermo, l'associazione Radio Out, Officina del Popolo USB, Arci Palermo, associazione Schierarsi, Piazza di Palermo, Udu Palermo, Movimento Agende Rosse, Casa di Paolo, Casa Memoria, Felicia e Peppino Impastato, Fase Cannizzaro e ancora Palermo Pride, Hauser Palermo, collettivo Croce, Saturna, Wikimafia e Antimafia 2000. Strage di Altavilla Milica per Giovanni Barreca nascono delle minacce all'interno del carcere e viene definito un assassino nel corso dell'ultimo colloquio. Ha rivelato al suo avvocato che alcuni reclusi li avrebbero gridato insulti, tirandogli anche addosso degli oggetti dalle celle vicine. Assassino vattene! Sono queste le urla contro Giovanni Barreca nel carcere di Enna. L'ex in Bianchino accusato assieme alla figlia Minorenne e ai coniugi Sabrina Fine e Massimo Calandente di aver ucciso la moglie Antonella Salamone, figli Kevin ed Emanuele nella strage. Di Altavilla Milica avrebbe ricevuto minacce dagli altri detenuti anche se non ci sarebbe stato nessuno scontro fisico visto che si trova in isolamento. Nel corso dell'ultimo colloquio ha rivelato il suo avvocato Giancarlo Barracato, alcuni reclusi avrebbero gridato insulti, tirando a Barreca alcuni oggetti dalle celle vicine. Una violenza che dimostrerebbe l'insofferenza nei suoi confronti da parte degli altri ospiti. Un motivo in più per il legale, per presentare nuove stanze, per chiedere di avvicinare l'uomo in un istituto di pena più vicino al capoluogo. Anche questa volta Barreca avrebbe ribadito di non essere stato in grado di reagire. sarebbero stati coniugi a insistere affinché si compissero i riti per la liberazione dal demonio spingendolo così a compiere il massacro di un'intera famiglia. Una versione completamente differente è quella però riportata da Sabrina e Massimo, raccontata al loro avvocato Franco Critelli e dal criminologo Gianni Spoletti nel corso dell'incontro, durato circa dieci ore. I due avrebbero giurato di essere strane ai delitti, scaricando così tutte le responsabilità su Barreca e sulla figlia diciassettenne. I miei assistiti sono profondamente addolorati per le persone morte, così ha detto l'avvocato Critelli, che ha ribadito i processi si fanno in tribunale e non nei salotti televisivi, dove neppure esiste il necessario contraddittorio. Essi riportano frammenti distorsivi di una storia funesta, tutta ancora da chiarire nella sua complessità. Dietro questa vicenda c'è del disumano, del paradossale. Ad essere esterminati con torture atroci, lo ricordiamo, sono stati una donna, Antonella Salamone, e due dei suoi tre figli, Kevin ed Emanuel. Lo scaricabarile tra le due fazioni, da una parte Barreca, dall'altra la coppia Carandente-Fina, continua ad essere alto, ma le responsabilità ancora sono tutte da appurare. Restiamo a parlare di Altavilla, perché quando si parla di esorcismi o di rituali collettivi, spesso si finisce per trascendere quella che è la vera fede religiosa. e dunque si può spesso perdere di vista quella che è la sottile linea che separa la realtà della suggestione. E dunque questo ci riporta proprio a quanto accaduto ad Altavilla a Milica. Ora la conferenza episcopale siciliana diffonde un apposito decreto firmato dai vescovi siciliani che regola non solo gli esorcismi, ma anche le cosiddette preghiere di guarigione e di liberazione dal demonio. Si tratta di un documento che offre indicazioni precise per una sana vita spirituale che blocca proprio l'influsso demoniaco. Fa un'analisi della situazione in Sicilia per offrire quelle che sono delle indicazioni che adesso devono essere chiaramente seguite da sacerdoti e laici. Per spiegarlo ulteriormente è stato anche realizzato un video di approfondimento curato dallo stesso Monsignor Antonino Raspanti che ascoltiamo nelle sue parole. Le linee guida che abbiamo composto con i vescovi siciliani sugli esorcismi e sulle preghiere di guarigione e liberazione, così come vengono chiamate, mirano ad aiutare sempre meglio le persone, diciamo, bisognose di questo tipo di aiuto. Da una parte abbiamo messo qualche piccola restrizione per evitare abusi che alla fine non aiutano perché ingannano le persone stesse e le illudono magari su qualche cosa che non hanno oppure su qualcosa che va curato ed aiutato in maniera diversa. Si tratta anzitutto di fare chiarezza e verità su ciò che affligge la singola persona e poi eventualmente esercitare l'autorità che Gesù ha dato alla Chiesa che proprio sul male e sul maligno, lì sì che possiamo e dobbiamo intervenire per guarire, aiutare, liberare le persone che Gesù vuole che siano libere perché Egli è venuto per la salvezza di tutti. Perché si celebra la giornata internazionale contro l'omotransfobia istituita dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea nel 2004, questo 17 maggio? Dunque perché si vuole probabilmente tutelare la diversità intesa come risorsa preziosa? Si celebra oggi la giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia istituita nel 2004 dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea a 14 anni dalla decisione del 17 maggio 1990 di rimuovere l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La giornata internazionale contro l'omofobia si celebra tutti i 17 maggio a ricordo della data in cui l'OMS definì per la prima volta nella storia l'omosessualità come una variante naturale del comportamento umano. In questo modo terminarono i trattamenti medici e psichiatrici per curare l'omosessualità. Molto è stato fatto in questi anni contro ogni forma di intolleranza e discriminazione basata sull'identità di genere. Ma nonostante ciò sono ancora 72 paesi nel mondo che sanzionano penalmente l'orientamento sessuale. L'Italia nell'ottobre 2017 è entrata a far parte del core group lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Un gruppo interregionale di paesi e organizzazioni per promuovere i temi della lotta alla discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e della tutela dei diritti di tutte le persone. L'Italia inoltre supporta attivamente la dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sui diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere del 2008 ed è parte dell'Equal Rights Coalition, piattaforma di cooperazione tra paesi che mira allo scambio di informazioni e buone pratiche nonché partner del Global Equality Fund, fondo intergovernativo che si propone di finanziare progetti a tutela delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Ricorre domani, 18 maggio, il 44esimo anniversario della Marcia per lo Zingaro un evento che segnò per sempre il nostro territorio. Da quel momento infatti partì l'ITAR che portò poi all'istituzione della prima riserva naturale in Sicilia, nonché una delle primissime in Italia. Domani appunto si svolgerà una giornata celebrativa con la presenza di alcuni dei protagonisti di allora tra ad una serie di attività di educazione ambientale. L'evento è organizzato dalla regione, ente gestore della riserva. L'intervista. 44 anni alla marcia, che è il 18 maggio 1980, portando quasi 3.000 persone riuscì a bloccare quella che sarebbe diventata la provinciale Scopello-San Vitolo Capo. Questo smosse un po' l'ambiente anche politico, palermitano, l'Assemblea regionale e da lì a un anno venne proprio promulgata la prima legge istitutiva delle riserva naturali in Sicilia e tra le primissime anche in Italia. Ricordo l'allegria e la nostra sorpresa nel vedere qui gente di tutta la Sicilia e di tutti gli schieramenti politici. Siamo riusciti a isolare quelli che noi chiamavamo gli amici del cemento. Questo fu un fatto nuovo per quegli anni, è una cosa assolutamente nuova. Questa area non sia una riserva integrale, ma sia una riserva dove la frizione sia possibile. Non vogliamo soltanto opporci alla strada, vogliamo che questa zona rimanga intatta così come non solo per i valori naturalistici che ci sono, ma proprio perché è bello poter camminare lungo spiagge tranquille e deserte. Abbiamo ascoltato le parole di quello che è stato, diciamo così, il papà della riserva. Esatto, Franco Russo si può considerare a buona ragione il papà della riserva perché era un funzionario forestale della regione siciliana che dopo un viaggio negli Stati Uniti dove aveva visitato i parchi nazionali tornò in Sicilia carico di entusiasmo e cominciò a lavorare per creare le aree protette appunto in Sicilia. E poi abbiamo anche una mamma volendo che è la dottoressa Francesca Messana che è quella che ha firmato come prima firmataria il disegno di legge che poi è diventato legge e che appunto ha istituito la riserva allo zingaro. Domani è l'evento aperto a tutti? L'evento è aperto a tutti, chiunque può andare. È un programma che ha organizzato la riserva che è dedicato soprattutto ai bambini, ai ragazzi e all'educazione ambientale. L'evento è all'ingresso sud della riserva, sarebbe l'ingresso scopello, un momento celebrativo con le testimonianze di chi fisicamente era presente. Diciamo chi ha partecipato e a cui i bambini potranno rivolgere le domande e le curiosità. Fu distribuito quel giorno all'ingresso della riserva questo bellissimo volantino sulla dichiarazione di questo capo indiano che iniziava più o meno così, diceva come potete voi comprare l'acqua, comprare l'aria, comprare la terra se non ci appartengono, questo più o meno era il senso. E le parole bellissime, di una forza incredibile ma soprattutto estremamente adatte a quello che era quella giornata. Cioè come potete vendere questa bellezza, come potete pensare che qualcuno la possa comprare o peggio distruggere se noi non la possediamo, questo è il senso. E poi gli enti gestori delle riserve naturali in Sicilia, ognuno per suo conto farà dei momenti di educazione ambientale. Ed è puntuale come è sempre il santo del giorno. San Pasquale Bailon Nacque il giorno di Pentecoste del 1540 a Torre Ermosa in Spagna e morì nei pressi di Valencia il giorno di Pentecoste del 1592. Di famiglia molto povera, fin da bambino, lavorò come pastore e più tardi come garzone di un ricco allevatore. Ammesso al convento di Santa Maria di Loreto dei Francescani Riformati Alcantarini emise i voti religiosi il 2 febbraio 1564. Il letterato è tuttavia considerato il teologo dell'Eucarestia non solo per le dispute sostenute con i calvinisti, ma anche per i suoi scritti. I numerosi miracoli da lui operati in vita suscitarono presso la devozione in tutto il mondo cristiano. Patrono dei pastori e dei cuochi è il protettore delle associazioni eucaristiche e dei congressi eucaristici internazionali. Adesso spazio alle previsioni meteo. Queste le previsioni meteo per sabato 18 maggio. La Sicilia sarà ancora interessata da correnti meridionali che apporteranno stavolta variabilità a tratti. Ma scendiamo nel dettaglio. Avremo condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili fenomeni in genere deboli o localmente moderati sul settore occidentale. Le temperature saranno stazionarie e superiori alle medie stagionali. I venti soffieranno deboli o moderati meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi. Queste previsioni sono fornite grazie alla collaborazione con il Centro Meteorologico Siciliano. Sigle a cura di AP Web Radio e in Social TV. Ed è tutto per questa edizione. Non ci sono ulteriori aggiornamenti. Vi ringrazio come sempre per averci fedelmente scelti e tenuto compagnia. Arrivederci e buona serata. Grazie a tutti.